è il gianji merighetti e anche oggi è a caccia di ma non ci posso credere ma porca troia mi si è fermata la ventola in autostrada all'altezza di napoli sono rovinato qua ci sono gli africani ci sono gli zulu porca miseria buonasera sì salve arretrato mentale senta ho un problema molto serio mi riceve sì you speak my language fantastico perché sono di milano sa com'è la prima volta che mi capita di rimanere in panna qua in africa e sono un po un po spaesato capito ho capito ho capito senti giorgiana mi sei bloccata io non so se conosci voi avete già le macchine con i motori giusto avete superato la fase delle carrozze coi cavalli coi buoi mi si è fermata la bentley conosce autovettura per gente che guadagna oltre il milione di euro al giorno molto bene if you understand benissimo sono bloccato qua in una stradina sperduta dell'africa ecco e non so come cazzo ripartire avrei bisogno di qualcuno non so lei ha un un carro non so se con il carro attrezzi dove è lei di milano ma ovvio senti a milano a rivederla sì buonasera giorgiana salve pronto sì mi riceve chi è il telefono e sono il giangi in meneghetti non si emozioni eh il mio nome subito le fa suonare i dollaroni la ricchezza diamanti gioielli rolex senta mi è successa una mezza disgrazia lei capisce la mia lingua sì sì ah fantastico no perché sai in africa non si sa mai chi si trova al telefono eh questo anche è vero ma che c'ha il filo lei col bicchierino no ancora il tantam usiamo il tamburi i segnali di fumo simpatico lei eh immagino che lei si 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 ciba con le pulci queste robe qua si nutre dalle pozze fangose giusto senta mi si è fermata scusi sembra quasi una bestia mia la bentley sì in una stradina qua vicino al suo negozio penso perché ovviamente io avendo l'iphone non so se conosce è un telefono di nuova generazione sì roba che solo noi a milano possiamo possedere mi risulta praticamente che lei è abbastanza vicino è a 4 chilometri virgola 3 pensi la tecnologia dove è arrivata addirittura virgola 3 le dà virgola 3 senti africano mi si è bloccata la macchina non so come muovermi lei è in grado con quelle sue zampine pelose di mettere in mano al mezzo o non lo so devo vedere se c'è il cammello disponibile ah col cammello arriva eh sì ah ho capito non vorrei che sembrasse una bestemmia voi non avete il carro attrezzi no c'ho il cammello attrezzi cammello attrezzi che miseria ma lei ce la fa a venire qua o è legato con una catena e una palla al piede come cuntacchinte di radici no 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 è libero sì 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 sono libero allora senta se lei viene qua oltre a pagarla profumatamente con il denaro immagino che lei non sappia cosa siano le carte di credito sì sì c'è una vaga sensazione allora guardi le faccio un regalo se lei viene qua oltre a pagare le faccio annusare la mia american express eh le faccio leccare il cristallo del mio rolex daytona piacerebbe eh sento che c'è già un po' arrapato è un poco eh allora senti sotto sviluppo se puoi magari raggiungermi ti do la posizione esatta via cornelli a gracchi via soccavo sono via cornelli a gracchi sì conosce la zona eh sì quando vede un essere umano sviluppato è lei esatto vestito di cashmere scusi se uso termini che lei non conosce mi riconosce dalle pacciotti molto lucide e la cintura di gucci conosce quel no è roba no gucci troppo avanti per lei troppo troppo comunque magari le faccio dei segnali con il mio con con il mio portafoglio di prada di prada sì luccica perché stracolmo di carte di credito che bello ecco allora negro eh ce la fai raggiungermi due minuti sono da lei perfetto la senti giangi meneghetti va bene io come la riconosco dal pelo o no 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 dal cammello dal cammello benissimo lei è peloso in faccia o è già in versione evoluta già già no 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 ancora diciamo con la barba è ricurvo sì 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 un po' ho capito va bene l'aspetto ok sei il numero uno scusami siamo di radio 105 se volete segnalare una vittima al giangi mandate un sms al 342 41 15 105 342 41 15 105 con il numero e il nome di chi volete massacrare sai qual è il problema che mi do fastidio da solo quando lo fai ma uno che ti chiama e dice uè il retrato mentale ma buttagli giù allora amici napoletani l'indirizzo di marco mazzolli e viva ci sentiamo domani viva napoli only for you only for you only for you